in studio con i miei allievi lavoro così viene a vedere forse troppo forse ho esagerato però casomai me lo riprendo però in questa maniera ciò vedi tutto questo giro a parte il naso è disegnato strano che anche qui deve venire fuori forse troppo largo l'ho allargato un po troppo non è dritto è storto quindi insomma va bene quel buco e il buco del naso è un po più forse un po più in alto e anche più piccolo questo dovrebbe girare così però c'è troppa luce sono meravigliosi si fantastici costano un sacco però vabbè cocco poi dura cocco qui tocca tocca spendere tanto no beh se ti danno questo risultato si 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 sono soddisfatto sono soddisfatto anche qui c'è luce si si l'ombra è qui e qui invece c'è luce riflessa anche lì ebbè si sale su dopodiché qui c'hai luce qui intanto l'altra cosa è qui c'hai tutta una serie di riflessi allora io il pennello poi me ne ero fatto dare perché qui c'hai una qui c'è luce vedi si così gli dai luce anche qui c'è luce certamente caro qui sotto qui questi pennelli sono dei filbert princeton imperial che si comprano nel sito intingo.shop credo comunque se vai poi te lo scrivo sabrina che è di un mio amico di internet e qui ci vuole più luce questo va così va ripulito qui prende più va bene questo è buono allora tu hai fatto una cosa ottima hai messo un po di tono di pelle nell'occhio sì me l'ho fatto così perché questo è giusto l'avevo notato quello sì e l'ho fatto così velocemente e ogni tanto faccio qualcosa no perché c'era quindi l'ho messo l'ho messo ma così è stata una cosa beh anche perché insomma bisogna dare anche volume anche all'occhio dall'orbita all'orbita in particolare qui ripiglia luce sta tutto là qui vedi che ripiglia luce qui qui prende più luce poi devi sfumare io adesso ti sto mettendo qui ripiglia un po luce vabbè sto naso un po qui c'è un po più luminosità qui vuole più luce come vedi io non sto usando il bianco non sto usando il che cosa non sto usando il bianco sta usando un un chiaro scaldato a parte che potresti avendo l'ocra ma l'ocra poi non l'hai messo c'è eccola ah là sotto perché per me sì sì scusa deve essere una sequenza certamente certamente siccome non ci stavano più sono dovuto scendere perché vabbè questa è l'ocra l'ocra sta subito dopo la siena bruciato è il siena naturale è più caldo è più freddo però l'ocra invece lo puoi usare per scaldare questo sta qui e poi da quest'altra parte ci fermiamo qui domani una nuova lezione da 5 minuti ah un attimo lo sai che dal giovedì alla domenica dalle 9 e mezza di sera mi trovi su twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare trovi il link qua sotto vieni anche tu